Ben ritrovati dalla redazione aquilana del Tg di TV6. L'Aquila è in primo piano oggi la cronaca sindacale. Brutte notizie per la Intex, ovvero l'Ex-Technolabs che praticamente chiuderà i battenti per quel che riguarda lo stabilimento aquilano. Oggi l'azienda infatti ha incontrato i lavoratori, un'assemblea a porte chiuse durante la quale i vertici aziendali hanno comunicato il ridimensionamento che manderà a casa 120 lavoratori. Solo 30 con contratti di solidarietà potranno durare più a lungo, anche se in assenza di lavoro per i sindacati è veramente un duro colpo ai lavoratori e alla città. Allora sentiamo tutti i particolari nel servizio. Chiude ufficialmente i battenti lo stabilimento Intex dell'Aquila, il laboratorio di ricerca e sviluppo Ex-Technolabs, in agonia ormai da anni. Tutti a casa dunque 140 lavoratori dell'azienda, solo per 30 ricercatori, si apre un periodo di coma farmacologico, vale a dire una fase che con i contratti di solidarietà garantirà loro di resistere per un periodo più lungo, ma comunque senza lavoro. L'azienda si sta preparando a lasciare di fatto questo territorio, quindi è venuta a comunicare a tutti i lavoratori il suo fallimento, la sua incapacità di riuscire a portare lavoro ai ricercatori dell'Aquila. Ha dichiarato che entro il 2017 l'organico dovrà passare dagli attuali 120 a una trentina di persone per le quali dichiara comunque di doversi sforzare per trovare lavoro. Quindi che fini faranno tutti i lavoratori a questo punto? I lavoratori di fatto saranno a spasso, saranno diciamo sostenuti probabilmente da un ammortizzatore sociale per questo periodo e alla fine del 2017 saranno a spasso. A dare il drammatico annuncio a porte chiuse sono stati proprio i vertici aziendali riuniti in assemblea con i lavoratori all'interno di Palazzetto De Nobili. Un altro duro colpo alla città che perde centinaia di posti di lavoro. Il tutto mentre l'azienda Intex in altre località d'Italia assume personale. Dov'è la politica in tutto questo? E veniamo alle notizie che riguardano la gestione dei progetti case. Il sindaco ha annunciato in esclusiva parte della gestione degli immobili del progetto case vada all'Aterra. Il primo cittadino propone infatti di spostare gli inquilini negli appartamenti liberi del progetto case. Naturalmente gli inquilini Aterra potrebbero gestire loro parte del progetto case dal momento che hanno anche personale a disposizione. Non serve ricostruire dei ghetti, dice ancora il sindaco Cialente. Facciamo il punto nel servizio di Daniela Rosone. Non serve ricostruire quartieri ghetto. Piuttosto gli inquilini dell'Aterra potrebbero occupare le piastre vuote del progetto case con la gestione affidata all'Aterra stessa che ha competenza e personale. La lancia così la proposta il sindaco Massimo Cialente, indirizzato ovviamente a Aterra, ma anche al presidente della regione Abruzzo e all'assessore Di Matteo. Non ricostruite tante case in posti che sono più che altro ghetti e così via. Non è giusto. Cominciamo a ragionare, ad esempio, di scambiare i tanti appartamenti che noi abbiamo. Perché? Perché scambiando questi appartamenti noi avremo 400 appartamenti. Noi avremo la possibilità non solo di non spendere soldi per ricostruire, ma soprattutto, vede, io credo che l'errore grave che si fa in Italia e realizzare le case popolari, non so, per 3-4 mila persone, tutte insieme in un posto, spesso sono periferici, staccati dalla città. E questo portano a avere propri ghetti nel tempo. Il sindaco ha avanzato questa proposta che per lui consentirebbe un grande vantaggio per entrambi i comuni e Aterra. Del resto i soldi per ricostruire le case Aterra, ammette Cialente, arrivano a Singhiozzo e dunque questa potrebbe essere un'ottima soluzione. Al momento nessuna risposta al primo cittadino. L'Aterra disse perché non mettete i nostri inquilini in alcuni progetti, in alcune piastre, ce le gestiamo noi. Non fu possibile, c'era il sistema Gioiel e così via. Io dopo molti incontri, adesso ho fatto una proposta all'Aterra che non mi risponde, che è la seguente. Noi adesso potremmo procedere con la collaborazione dei cittadini a uno spostamento progressivo per cui gli inquilini Aterra andrebbero in alcune piastre che non mettiamo tutti in una New Town ma distribuite nei vari quartieri, nuovi quartieri, nelle New Town e a questo punto noi certerremo la gestione straordinaria del progetto Gasi mentre tutta la gestione la farebbe lata. Consiglio comunale sul piatto l'assestamento del bilancio. Per l'opposizione in comune questo assestamento denota un'assoluta mancanza di progettualità da parte dell'amministrazione Cialente. La maggioranza invece vota compatta. Allora sentiamo come è andata nelle interviste del prossimo servizio. Assestamento generale di bilancio all'ordine del giorno di oggi del Consiglio comunale. Un atto importantissimo per il comune dell'Aquila che arriva a tre mesi dalla problematica approvazione del bilancio di previsione. La maggioranza di centrosinistra infatti si è trovata a discutere di un assestamento da quasi 18 milioni di euro. Una cifra considerevole. Per l'opposizione questo assestamento denota un'assoluta mancanza di progettualità dell'amministrazione comunale. Tutti gli interventi che sono calati all'interno della delibera sono in realtà per mettere una pezza. Per cui sono o fondi provenienti dall'esterno, per esempio la donazione di 500 mila euro della CGL in cui il comune ha dormito per anni prima di destinare questi fondi. 600 mila euro accantonati per il monumento alla memoria. Ci siamo in ritardo di sette anni su questa cosa. Quindi fa capire la mancanza assoluta di progettualità. A me piacerebbe, queste giornate d'aula mi piacerebbero per parlare del futuro della città quindi di poter parlare della delibera delle aree bianche che ad oggi è ferma del patrimonio immobiliare nato con le esigenze transitorie post-sisma quindi con la delibera 58 sul quale il comune e i cittadini oggi ancora non dice di che morti dovranno morire non dice se potranno essere mantenute, se dovranno essere demolite. Mi piacerebbe parlare del patrimonio immobiliare che il comune ha acquisito con la sostituzione edilizia. maggioranza invece compatta a votare l'assestamento di bilancio. Parere opposto a questo assestamento di bilancio perché siamo riusciti grazie a un ottimo lavoro degli uffici e grazie al raccertamento dei residui ad avere somme significative 18 milioni di euro a disposizione per fare quello che la legge impone e quindi di innanzitutto in via prioritaria pagare i debiti fuori bilancio che sono maturati, che provengono da lontano, a volte anche dalle amministrazioni precedenti di molti anni fa e quindi praticamente risaniamo la situazione debitoria del comune e riusciamo nello stesso tempo a realizzare interventi programmati. E veniamo alla cronaca giudiziaria. Tangente ricostruzione. Riga rinuncia al riesame. L'ex vice sindaco, lo ricorderete, agli arresti domiciliari. Scaduta la misura cautelare e illegale dell'ex assessore Roberto Riga, coinvolto nell'inchiesta legata alla ricostruzione, rinuncia al riesame. Non c'è interesse, dice il suo legale, in quanto la misura cautelare è proprio scaduta ieri. Nessuna tangente ribadisce, solo prestiti personali. Il servizio è di Daniela Rosone. Rinunciamo al riesame. Così il legale dell'ex assessore comunale Roberto Riga, rimasto coinvolto in un'inchiesta legata alla ricostruzione della città. Stamane, infatti, era fissata l'udienza del riesame, ma la misura cautelare per il suo assistito e per l'imprenditore Massimo Mancini era terminata ieri, dunque nessun interesse per il riesame. L'udienza per l'imprenditore Mancini, invece, è fissata per il prossimo lunedì. L'avvocato Luciano Bontempo, che difende Roberto Riga, ha ribadito che non c'è stata nessuna tangente e che i tre movimenti di denaro, peraltro modesti, contestati al suo assistito, nient'altro sono che prestiti personali, fatti da persone amiche, persone di famiglia, in definitiva, in un momento di difficoltà economica. 15 giorni di domiciliare in tutto per Riga e Mancini, scaduti, come dicevamo ieri, sono tornati in libertà dopo l'arresto, nell'ambito di una delle tante inchieste legate ad appalti e ricostruzione. In particolare, i due erano stati arrestati il 10 novembre scorso, l'accusa presunte tangenti nei lavori di ricostruzione post-sisma del complesso dell'Opera Salesiana, un affare da quasi 30 milioni di euro. Riga si dice sereno e anche il suo legale, abbiamo fornito tutti gli elementi, dice Bontempo, per dimostrare che il mio assistito è completamente estraneo a questa vicenda. E ancora processi a carico di amministratori pubblici, autobru, a processo questa volta per peculazione, dato il sindaco di Avezzano, il dirigente della provincia dell'Aquila e sindaco del comune di Avezzano, è accusato di peculato d'uso per un indebito utilizzo dell'auto blu incomodato d'uso e di proprietà del comune di Avezzano. A processo per peculato d'uso dell'auto blu comunale, il GUP del Tribunale dell'Aquila ha rinviato a giudizio il dirigente della provincia dell'Aquila e sindaco del comune di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, con l'accusa di peculato d'uso per un indebito utilizzo dell'auto blu del comune, in particolare in sei circostanze. Il processo è stato fissato per il 21 aprile 2016. Secondo i due pubblici ministeri che hanno esercitato l'azione penale, Roberta Davolio e Stefano Gallo, Di Pangrazio, in veste di dirigente della provincia, avrebbe utilizzato non correttamente un'auto blu assegnata in comodato d'uso al comune di Avezzano. A Di Pangrazio viene contestato anche un parere favorevole dato ad una delibera. Nell'ambito dello stesso procedimento a processo sono finite altre quattro persone. Si tratta di due autisti, un altro dirigente della provincia dell'Aquila e un dipendente per il solo reato di favoreggiamento, impiegato nello stesso ente per aver tentato di sviare le indagini in corso. Secondo l'accusa, le auto sarebbero state utilizzate per scopi privati anche nei fini settimana, come ad esempio per andare a fare la spesa. E veniamo alla pagina dedicata alla ricostruzione. La Basilica di Colle Maggio finirà di essere restaurata nell'anno 2017 e quindi tornerà fruibile da parte di tutti i cittadini aquilani. I lavori infatti per il restauro, affidati all'Eni e coordinati anche dalla sovrintendenza, partiranno a breve, probabilmente a ridosso delle festività natalizie. Si procederà speditamente anche in vista della candidatura della perdonanza celestiniana a patrimonio immateriale dell'umanità. Entro la seconda metà del 2017, la Basilica di Colle Maggio tornerà fruibile per tutti gli aquilani. Il restauro, come è noto, sarà finanziato dall'Eni e ad eseguire lavori sarà invece la ditta Arcas S.P.A. Già nei prossimi giorni inizierà l'allestimento del cantiere per l'esecuzione dei lavori che dovrebbero iniziare a ridosso delle festività natalizie. Lavori importanti questi che andranno spediti per riconsegnare al più presto uno dei simboli dell'aquilanità alla città dell'Aquila, considerando anche la candidatura della perdonanza celestiniana patrimonio immateriale dell'umanità. La progettazione è stata curata dalla sovrintendenza ai beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo, la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza e per le attività tecnico e scientifici invece ha un pool di università. Politecnico di Milano, la Sapienza di Roma e ovviamente l'Università degli Stoli dell'Aquila, seguiti da personale qualificato dell'Eni. E veniamo ai colori rosso-blu dell'Aquila Calcio, domenica arriva il Prato, la società intanto pensa agli acquisti di gennaio, ieri il dirigente sportivo e l'allenatore a Chieti per seguire la gara di Coppa, potrebbe esserci anche il giocatore nero-verde Dos Santos nel mirino del rosso-blu, per ora nessuna conferma ufficiale nel servizio, anche novità riguardo lo stadio di Acquasanta. Potrebbe esserci il giocatore del Chieti Dos Santos nel mirino dell'Aquila Calcio per il mercato di gennaio. Sia il direttore sportivo Alessandro Battisti che il mister Carlo Perrone sono stati a Chieti per assistere alla gara di Coppa. Su questo nessuna conferma, ma è certo che il gioiello nero-verde fa gola a molti. La squadra intanto continua ad allenarsi per preparare la gara interna di domenica alle 15 contro il Prato, l'unico in dubbio resta Vittorio Triarico che ha ancora fastidi dopo la botta rimediata nel derby. Tra le fila del Prato invece non sarà presente il centrocampista Gaiola, fermato per un turno dal giudice sportivo. Intanto, buone notizie per lo stadio di Acquasanta, la commissione provinciale ha infatti dato il via libera per il progetto di videosorveglianza. Ora il Comune potrà bandire la gara, un progetto da 400 mila euro. Poi restano da installare le poltroncine. Passo successivo la gestione dell'impianto e da risolvere ovviamente il problema parcheggi. Bene, con questa notizia termina l'edizione L'Aquila del Tg di TV6. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di TV6. Grazie a tutti.